Questo può aspettare. La mia fede in te è stata ben riposta, figlio mio. Ora finalmente abbiamo la tecnologia per compiere il nostro prossimo passo. Quando il sistema ASAT nord-orientale del GDI sarà disattivato, la Filadelfia sarà vulnerabile agli attacchi. Presto, i leader GDI saranno a bordo della stazione spaziale per il summit annuale sull'energia. Uno di loro, tuttavia, dovrà tardare. Redmond Boyle. Un politico che è tanto avido quanto vana glorioso. Attacca la tesoreria del GDI e lui rimanderà il suo viaggio sulla Filadelfia. Vuole che sopravviva? Oh sì, mia cara. Noi vogliamo che Boyle conduca il GDI nel futuro. Su, coraggio, figlio mio. C'è molto da fare. La vedo che mi osserva. Mi osserva sempre. Sai per l'è. Sai per l'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senza lasciare traccia. Siamo le ali di Nod. Equilibrio perfetto. Ci muoviamo. In silenzio. È la nostra via. Questa è la via. Piano. Ci muoviamo. Unità nemica individuale. Concentrazione. Base nemica individuale. È la nostra via. Unità sottottata. In silenzio. È la nostra via. Senza lasciare traccia. È la nostra via. Siamo le ali di Nod. Squadra Shadow. Shadow in attesa. Ci muoviamo. Il percorso è libero. In silenzio. Il percorso è libero. In silenzio. Senza lasciare traccia. Mettiamoli a Manna. Mettiamo le ali di Nod. In silenzio. Massima attenzione. Il percorso è libero. È la nostra via. Base nemica individuale. Concentrazione. Obiettivo raggiunto. Il percorso è libero. Questa è la via. Unità nemica individuale. Squadra Shadow. Equilibrio perfetto. Ci muoviamo. I rinforzi sono arrivati. Carro stealth. Muoiono nelle venditori. Trasmissione in arrivo. Distrugga il centro comando per disattivare la connessione della tesoreria alla rete di cannoni ionici. Avanti così. Informazioni aggiornate. Base nemica individuata. Squadra Shadow. Unità nemica individuate. In silenzio. Ci muoviamo. Massima attenzione. Non hanno speranze. Facciamo dire la luce. Avanti così. Stiamo nel luce. Non hanno speranze. Carro stealth. State pronti. Unità nemiche individuate. Ci sono scanner in zona. Bombardare. Shadow in attesa. Senza lasciare traccia. Piano. Ci muoviamo. Il percorso è libero. Senza lasciare traccia. Rapidi. In silenzio. Emettitori stealth attivi. Fuoco. Una cosa che basta. Attacco rapido. Equilibrio perfetto. Unità nemiche individuate. Siamo le ali di Nod. Questa è la via. Piano. Base nemica individuate. Muoiono nella luce. Selezione versante. In attesa. Ci sono scanner in zona. Muoviamoci. Tutto tranquillo. Rete di cannoni ionici disattiva. Ecco la preziosa tesoreria del GDI. La tesoreria del GDI è in difesa. La distrugge. Ci nasconderai. Un'inizione gloriosa. Stiamone. Nel vento. Carro stealth. Bombardare. State pronti. Ci muoviamo. Piano. È la nostra linea. Destruzione gloriosa. Muoviamoci. Base nemica individuate. Equilibrio perfetto. Questa è la via. Ci muoviamo. Bombardare. Selezione versante. La luce di Kain. Stiamo nel... Visita. Non hanno speranze. Eh 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 eh. Carro tagli. Muoiono nella luce. Facciamo saltare la baracca. Massima te priva che possano reagire. Fuoco. Una cosa veloce. Aspettiamola. Obiettivo aggiunto. Connessione video in corso. Le porto i complimenti da parte del trofeo. Lei è più abile di quanto credessi. Missione computer. Carri. Lei è più abile di quelle Unger.